mesi a dicembre. Renzi fugge dal centro di Perugia per paura delle contestazioni. Sarà una gara in seguimento. Lo ha detto Candiani, senatore della Lega Nord. Stiamo valutando, dice, come rendere visiva sonora la nostra presenza. Chiudersi in una sala di fronte a un pubblico festante non può nascondere all'opinione pubblica il fallimento di un governo arrogante e sempre più autoreferenziale che con la modifica della Costituzione e della legge elettorale mira solo a conservare il proprio potere. Si può provare a fuggire dalle contestazioni ma non dalle proprie responsabilità.